Eccomi, prima puntata del Ricordati di Vivere. Tutti i giovedì ve ne proporrò una e approfondiremo alcuni temi, alcuni esercizi che vi proporrò legati alla filosofia come stile di vita. Parto oggi a spiegare proprio questo titolo che ho scelto per questa, chiamiamola rubrica, questi appuntamenti video, che peraltro è anche la frase che accompagna da molti anni il mio logo sul sito, sui miei biglietti da visita, insomma. L'ho scelta perché per me è una frase centrale e è in realtà il titolo di uno dei libri di Piera Do. Piera Do me lo sentirete nominare molto spesso perché è colui che in qualche modo ha riportato alla luce la filosofia proprio come stile di vita, come maniera di vivere, che poi Romano Madera ha ripreso, recuperato, ampliato, studiato e riproposto nella Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche, FILO, di cui io sono insieme a lui e a molti altri la fondatrice e socia e propongo una serie di attività. Ricordati di vivere è una frase che Pierado riprende e recupera da Goethe e la leggo da pagina 89 del testo. Memento mori, cioè ricordati che devi morire. Si incontrano di frequente, non voglio continuare a dirle, perché dovrei in una vita così breve tormentarti con il suo limite. Perciò, come un vecchio barbogio, docendo ti raccomando, caro amico, secondo il tuo modo, memento vivere, non altro. Memento vivere, cioè ricordati di vivere in alternativa al memento mori, cioè ricordati che devi morire. In realtà sono due facce della stessa medaglia e la cosa è estremamente interessante a mio avviso, perché ricordati che devi morire, certo, ha sempre funzionato anche nella storia come possibilità di porre l'attenzione al fatto che la nostra vita non è infinita, non è illimitata, non ci è dato, perlomeno per quello che ne sappiamo, una vita immortale. E nomino volentieri la parola immortale perché è un testo che vi suggerisco, se siete interessati anche in particolare a questo tema del memento mori o dell'immortalità come questione su cui l'essere umano si interroga da sempre, quindi in realtà la non-immortalità e quindi la sua fiditudine, è proprio un testo che si intitola Gli Immortali di Borges, contenuto in una raccolta che si intitola Aleph, dove narra proprio come la vita dell'immortale in realtà è una vita noiosa, è una vita senza valore, perché si ripete costantemente o comunque ogni cosa che viene vissuta potrà darsi un'altra volta e poi un'altra ancora, perdendo appunto il suo valore che per noi invece mortali arriva proprio dall'essere effimera, dal sapere che ogni momento che viviamo è di per sé irripetibile e per certi versi, dicevano i filosofi antichi, varrebbe la pena vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. Però credo sia interessante, e per me lo è, non tanto soffermarsi sul fatto che dovremo morire e quindi, ed è assolutamente necessario fare i conti col limite e quindi col tempo presente come appunto unico, irripetibile e da non dare per scontato, ma mi sembra molto più interessante meditare sull'altro lato della medaglia, cioè sul ricordati di vivere, che ha in sé quella possibilità di meravigliarsi, di prestare occhi, orecchie, cuore al fatto che tutto ciò che accade non è ovvio, non è scontato, non è banale, non dobbiamo aspettare qualche cosa di straordinario per renderci conto che la vita è di per sé straordinario, perché semplicemente potrebbe non essere, potrebbe non essere come l'abbiamo, potrebbe finire, potrebbe essere molto più ferita, potrebbe essere molto più condizionata da altri drammi, da altri limiti e quindi credo che non sia tanto importante per quanto lo è e ci tornerò, perché per me è un approfondimento personale e professionale molto importante quello dell'esercizio filosofico della morte, che mi aiuterà anche a spiegarvi meglio cosa sono gli esercizi filosofici e come Pierre Hadot ci riporta a recuperare appunto la filosofia come stile di vita, come scelta di vivere una vita non solo consapevole ma nell'amore per la saggezza, per la sapienza, che per l'antico era la sapienza del maestro di cui seguire le regole e di cui seguire appunto gli esercizi quotidianamente per rimanere attenti a quelle regole e continuare a seguirle, per noi questa esemplarità non è più possibile e quindi dobbiamo scegliere i nostri maestri, dobbiamo scegliere la nostra direzione, decidere cosa ci orienta, quali sono i punti cardinali, i valori, le priorità, le regole che possiamo darci soprattutto se non abbiamo una religione per esempio di riferimento che invece alcuni dettami, alcuni orientamenti ce li propone in maniera chiara e quindi un primo grande esercizio per esempio su cui potremo soffermarci è proprio questo magari nella versione che anche Hadot ricorda e suggerisce dell'esame di coscienza nato con i pitagorici moltissimi moltissimi secoli fa ma su questo torneremo appunto in particolare con i libri di Pieradot, con i libri di Romano Madera e per certi versi con i miei ma quello che mi sembra interessante oggi appunto è facciamo caso al fatto di essere vivi, prendiamo la vita con gratitudine, con entusiasmo, con curiosità, con apertura, accettiamo che della vita fa parte anche il limite certo la sofferenza ma che l'alternativa davvero potrebbe essere che la vita non è, non si dia più e allora in questa meditazione che vi suggerisco mi viene da pensare che si potrebbe in maniera molto semplice per esempio come anche la mindfulness insegna a fare e quindi come i primi approcci e le prime pratiche della meditazione ci insegnano a fare attraverso il respiro, attraverso la consapevolezza che viene dal corpo e su cui ritorneremo proviamo ad accorgerci di essere vivi, sono vivo ed è solo l'inizio come recita un aforisma di Alberto Casiraghi, poeta brianzolo che abita vicino a me, che mi ha regalato questo aforisma perché ci potesse intitolare uno dei miei libri. Sono vivo, sono viva, sono qua, sono per fortuna mia per esempio sana, ho i miei affetti, ho la mia casa, sono in un mondo in pace, ho da mangiare, ho riscaldamento, un esercizio di gratitudine, un esercizio di consapevolezza, un esercizio dove smettere di dare tutto per ovvio e per scontato perché non c'è nulla né di ovvio né di scontato né di certo. Però fare i conti con l'effimero non dal punto di vista della fine ma dell'inizio l'ho sempre trovato estremamente interessante e anche molto meno mortificante e più meraviglioso nel senso pieno della meraviglia e dello stupore per ciò che c'è. E a questo proposito mi piaceva raccontarvi una storiella che ho narrato in uno dei miei libri e che ho scoperto come storiella ebraica poi in realtà non ne conosco davvero le fonti e quindi ve la passo come tale che narra di un uomo che si trova a visitare per curiosità, per turismo, un piccolo cimitero cosa che in realtà amo molto fare anch'io perché nei cimiteri c'è un po' la sapienza, la saggezza sulla vita e sulla morte che da sempre accompagna e interroga gli esseri umani e quest'uomo in questo cimitero trova moltissime lapidi che riportano delle date che lasciano pensare che in quel cimitero ci siano sepolti soltanto bambini e spesso bambini molto piccoli. Ne trova una, ne trova due, ne trova tre, ne trova molte e questa cosa lo inquieta, lo agita, lo commuove fortemente perché crede di essere finito in un cimitero di bambini. Il custode vede la sua commozione, vede il suo turbamento e gli chiede se eventualmente è così turbato perché avesse qualche parente, perché ha qualche parente in questo cimitero e lui dice no ma io non pensavo di poter trovare un cimitero soltanto di bambini e alcuni anche molto piccoli e il custode sorridendo, scusate ma è una storiella che mi commuove sempre molto perché dice il vero, gli dice ma no questo non è un cimitero di bambini, in realtà in questo paese si era pattuito che quando si era prossimi alla morte si scegliesse di segnare sulla propria lapide il tempo in cui ci si era accorti di esistere ed è per quello che le date sono di periodi così brevi ma qui sono morte persone anche molto anziane. Questa storiella come vedete mi aveva molto colpita perché in realtà il tempo in cui noi ci accorgiamo di esistere è veramente troppo poco, il tempo che invece lasciamo scivolarci addosso presi dalle preoccupazioni del futuro, dai rimpianti o dalle rabbie del passato è tantissimo e le giornate ci scivolano addosso e questa cosa è forse il peggior sgarbo che possiamo fare a noi e alla nostra vita. Quindi anche nella commozione che tante volte probabilmente vedrete che mi caratterizza perché da quando ho scelto di smettere di difendermi dall'esistenza e ne sento molto di più le cose belle ovviamente ne sento anche di più le cose che in qualche modo possono toccare, possono ferire ma penso che se vogliamo ricordarci di essere vivi non possiamo neanche tanto distinguere cosa sentire e su cosa anestetizzarci. E quindi apriamoci alla possibilità di ricordarci di essere vivi, di sentire la vita, di meravigliarci e proviamo magari anche a iniziare a esercitare davvero un respiro alla volta, un respiro al giorno, la consapevolezza e perché no la gratitudine per la nostra vita, per ciò che abbiamo, per ciò che siamo, per ciò che ci attende da qui in avanti e cerchiamo di non essere invece troppo vittime delle paure, troppo vittime dei rimpianti perché in realtà e lo dico per esperienza personale e anche per la quantità di persone che ascolto anche per mestiere è davvero un peccato restare prigionieri soltanto del passato, delle angosce, del futuro. per cui proviamoci e per chi è interessato uno dei primi approfondimenti che può davvero valer la pena fare di letture sulla filosofia come stile di vita è Ricordati di vivere di Piera Do. Ci vediamo giovedì prossimo.